Ed eccoci ragazze ed eccoci arrivati alla sesta puntata per quanto riguarda le estrazioni dove diamo in regalo a uno di voi Un buono da 10 euro Esatto, che possono spendere dove? Su Fortnite come meglio credono Su Fortnite come meglio credono Come ricarica telefonica su Fortnite, sul portafoglio PS4, su quello di Xbox One Come fate a partecipare ragazzi? È semplicissimo Dovete commentare sotto questo video Esatto, la parola che vogliamo leggere ragazzi sotto questo video Sai qual è? Qual è? 100 live di Fortnite e non sentirle Ok? Ok Perché questa è la centesima live Quella che stiamo facendo e che è in corso questa sera Mi raccomando commentate sotto qua Due regole velocissimo Siate in live alle ore 22.30 quando faremo l'estrazione Un commento solo Mi raccomando Siate in live Importantissimo Noi ci vediamo presto Ciao 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 Ciao